Il più grande dei re, dato nel più umile dei luoghi. Il più grande dei re, dato nel più umile dei luoghi. Il più grande dei re, dato nel più umile dei luoghi. Il più grande dei re, dato nel più umile dei luoghi. Il più grande dei re, dato nel più umile dei luoghi. Ma sarebbe inutile che Gesù fosse nato solo duemila anni fa. Egli, ogni anno, nella notte santa, vuole tornare a nascere nel cuore di ogni uomo, nelle nostre famiglie, nelle nostre comunità e nell'intera umanità. Quella notte, dalla grotta di Betlemme, è partito un messaggio di riconciliazione, di perdono, di amore, di pace e di fratellanza. E cogliendo questo messaggio che sarà Natale, un Natale vero anche per noi. Notte azzurra e splendida, notte favolosa. Notte di stelle, notte luminosa, notte azzurra e splendida, notte favolosa. Notte di stelle, notte luminosa. E' una notte di poesia, come stelle in ogni via, notte di prodigi. Ogni angolo del cielo, trasparente come un velo, notte di prodigi. A ventre invece è fervore, c'è speranza e tanto amore, notte di prodigi. Al prodigio è tutta attesa, questa notte è l'attesa. Notte azzurra e splendida, notte favolosa. Notte di stelle, notte luminosa. Notte azzurra e splendida, notte favolosa. Notte azzurra e splendida, notte di stelle, notte luminosa. Questa notte di splendore, è una gioia per il cuore, notte di prodigi. Tutti sembrano aspettare, un evento eccezionale, notte di prodigi. A ventre invece è fervore, c'è speranza e tanto amore, notte di prodigi. Al prodigio è tutta attesa, questa notte è l'attesa. Notte azzurra e splendida, notte favolosa. Notte azzurra e splendida, notte favolosa. Notte di stelle, notte luminosa. Notte azzurra e splendida, notte favolosa. Notte di stelle, notte luminosa. Notte luminosa. a betlemme c'è perdono speranza e tanto amore un applauso caloroso prolungato ai protagonisti agli attori dai piccoli bambini ai più anziani alla regia beh facciamolo anche a Bruno più forte dai un po' lui l'anima ancora dai dai che mi riscaldate al corretto parrocchiale bravi e al bambinello sperando che sia un Gesù bambino bravo alla mamma Maria che sia una brava mamma domani e al padre che già è padre che sia un ottimo papà grazie a tutti voi grazie anche come si può chiamare le luci e tutta la organizzazione grazie ancora e adesso c'è Bruno che vi dirà meglio di me solo grazie grazie a tutti e ai partecipanti e a voi che siete qua a onorare il lavoro che noi facciamo grazie e alla prossima vedizione